Siamo qui in diretta dal Kennedy Stadium Inizio in campo Special Cup Formazioni iniziate alla Centro del campo a causare Trovate difusi Guarda che passano da più 5 Guarda che passano da più 5 Dire va dell'acqua Sai dobbere Consa come la presa Non so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.